A Lanciano sono 4 i candidati a sindaco, 15 le liste che li sostengono, 352 i candidati al Consiglio Comunale. Alle 12 è scaduto il termine per la presentazione delle liste all'ufficio elettorale. Sono 35.000 circa gli abitanti residenti nella città di Lanciano, 32.600 gli eventi diritto al voto, un numero alto in quanto sono compresi circa 4.000 residenti all'estero. 6 le liste che sostengono il candidato di centro-sinistra Leo Marongiu, Presidente del Consiglio Comunale uscente. Lanciano in Comune, Lanciano Vale, Lanciano per Tutti, Partito Democratico, Progetto Lanciano, Uniti per Lanciano. 7 le liste a sostegno del candidato di centro-destra Filippo Paolini, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia che vede insieme anche Udc e Autonomi e Partite IVA, Alleanza con Paolini, Nuova Lanciano, Libertà in Azione, Lanciano che verrà. C'è poi il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che è Sergio Furia. Mentre con una lista civica Rilanciamo Lanciano, candidato sindaco è Ivaldo Rulli. Ora si può entrare nel vivo della campagna elettorale. Ricordiamo che all'inizio diversi erano i candidati a sindaco nelle due coalizioni. Nel centro-sinistra, oltre a Leo Marongiu, c'erano anche Giacinto Verna, vice sindaco uscente e Dora Bentotti, assessore alle politiche e sociali uscente. Poi c'è stata l'intesa e dunque hanno appoggiato Leo Marongiu. Nel centro-destra c'erano le candidature di Paolo Bomba per Fratelli d'Italia, Danilo Ragneri per Lega, Alessandro Troilo per una civica appoggiato anche da Forza Italia. Filippo Paolini invece stava lavorando insieme a Tonia Paolucci al Polo Civico. Poi si è trovata l'intesa su Paolini, che ricordiamo è stato già sindaco della città dal 2001 al 2011. Sergio Furia, del Movimento 5 Stelle, è stato scelto su tre nomi proposti dai 5 Stelle. Ivaldo Rulli, sin dall'inizio, ha detto che si sarebbe candidato con la lista Rilanciamo Lanciano.